quello che state vedendo non è altro che l'espressione del massimo controllo del mercato in fase di estrema volatilità sono le 2 e 35 abbiamo praticamente assistito alla comunicazione dei dati macroeconomici americani direi piuttosto importanti questo per far capire soprattutto tutte le persone che sono convinte che i volumi spostano il mercato ci sono le mani forti le mani deboli le mani in faccia tutta sta gentaglia che parla sempre a sproposito questo è il mercato lo vedete ogni moneta mantiene il suo equilibrio lo vedete mercato bello vivo bello vivace guardate come si muovono i prezzi vedete adesso si sta tranquillizzando dovevate vederlo vabbè dovevate vederlo basta che vi scaricate la piattaforma fissate nella vostra agenda orario in cui ci sono i dati macroeconomici molto importanti e assisterete a questo praticamente sono piccoli salti di range però che mantengono i prezzi li vedete sono allineati è tutto allineato adesso non so se la sternina ormai il mercato si sta calmando credetemi ne vale la pena ne vale la pena scaricarsi questa piattaforma e vedere come le banche centrali tengono monitorato l'equilibrio dei prezzi sembra quasi che lo facciano apposta veramente quando ci sono le notizie macroeconomiche soprattutto quelle importanti io come l'impressione che qualcuno si diverta a dare un guizzo di volatilità quando in realtà poi è evidente evidentissimo lo vedete sono loro che decidono la volatilità del mercato perché non è possibile che il mercato lavorasse sui volumi tanto volume di acquisto tanto volume di vendita si mantenga in equilibrio impossibile non è credibile questa cosa non è assolutamente credibile mercato forex una matrice di processi stocastici completamente allineati e organizzati secondo una determinata traiettoria per il resto sono soltanto favole favole vi fanno perdere soldi favole che rendono la vostra vita economica soprattutto se operate in questo settore molto ma molto incerta io spero di avervi aperto quantomeno gli occhi su quello che dovete fare quindi buttate tutte le cose che vi hanno detto che vi hanno raccontato evitate di andare da chi pensa di darvi il segnalino di trading perché alla vedo molto ardua molto difficile uscire fuori con la pelle intatta da questi mercati naturalmente ci sono i casi in cui si guadagna perché effettivamente in un mercato random si becca sempre la traiettoria in cui la possibilità di fare profitto ma è una chimera sono situazioni temporanee soprattutto con la strumentazione vecchia è difficile essere costanti sul mercato in maniera profittevole è veramente difficile fatevi un favore venite in gemma at fx grazie grazie grazie